E con un sottofondo di tamburi che adesso ha preso il via insomma qua nei dintorni dello stand Claudiana al Salone del Libro di Torino noi continuiamo la nostra diretta diciamo un po' indifferenti a questi rumori che ci sono esterni ma che fanno anche un po' da sottofondo giustamente a questa trasferta che ci sta accompagnando a se no insomma sembrerebbe di essere in studio e non avrebbe molto senso allora il prossimo ospite che chiacchiera con noi in voce delle chiese Timoteo Papa Pietro collana teologica delle edizioni Magister intanto buongiorno Timoteo benvenuto da Matera dalla splendida Matera arrivate voi da Matera al Piemonte con le voci delle valli quindi bellissimo con un libro di insomma un valdese doc che Paolo Ricca che insomma tutti conosciamo teologo docente nato a Torrepellice quindi nato a Torrepellice persona di un'estrema attenzione anche ai temi di attualità oltre che ai temi teologici e sovente riesce a mettere proprio in un dialogo perfetto questi due ambiti queste due sfere di comunicazione per voi per le edizioni Magister Timoteo Paolo Ricca ha scritto questo volume amore bacio fuoco le parole di Gesù allora prima di addentrarci a vedere che cos'è questo libro ti chiederei che cos'è questa collana che parla di teologia sì, una collana che parla di teologia ma parla della teologia riformata quindi è una sezione curata da un teologo evangelico che si chiama Daniele Giacoya con cui collaboriamo dal 1993, oggi siamo la 35esima edizione del Salone noi abbiamo 30 anni quindi compiamo anche noi una certa storia quindi 30 anni di lavoro editoriale con questa sezione insieme al direttore Giacoya dove raccontiamo quelle che sono le voci soprattutto in chiave ecumenica riformata ma ecumenica è importante sottolineare è in questo solco tracciato appunto in questi 30 anni quest'anno abbiamo pubblicato questo lavoro con Paolo Ricca che esce un po' fuori dai saggi accademici del Pastor Ricca dove andiamo ad unire quello che sarebbe un divulgativo in chiave ovviamente ecumenica quello che poi ha segnato un attimo quella che è la nostra storia quindi veniamo fuori da un aspetto di chiusura pandemica abbiamo raggiunto con le immagini, con le radio ma soprattutto noi come case editrici e con i libri siamo riusciti a raggiungere molti lettrici e lettori certo, beh questo sicuramente in effetti fa parte del momento storico che stiamo vivendo anche direi una certa riscoperta di ambiti che forse erano stati un po' sottovalutati proprio prima del momento di questi anni così difficili, così travagliati che abbiamo passato quindi il vostro incontro con Paolo Ricca vi ha portato appunto alla pubblicazione di questo volume amore, bacio, fuoco sono tre parole che in effetti compaiono sovente nei discorsi stessi di Gesù certo, il potere delle parole quindi noi abbiamo una forza interiore che si manifesta ovviamente con la spiritualità ma dobbiamo trasformare per iscritto questo è il best seller in assoluto dei libri, il salone del libro internazionale appunto parliamo di libri, è appunto la Bibbia quindi le parole di Gesù tratte dalla Bibbia messe anche in una cornice di attualità quindi abbiamo raccolto una serie di riflessioni condotte da Paolo Ricca nelle settimane alfonsiane che si svolgono a settembre a Palermo organizzate da Donnino Fasullo, quindi gli alfonsiani con Donnino Fasullo su un solo verso della Bibbia dialogano dai 15 ai 30 persone diverse quindi dal sindaco Leluca Orlando, dai docenti dell'università locali ha intervenuto Massimo Cacciari e la voce evangelica è stata portata appunto in questi anni da Paolo Ricca quindi noi abbiamo raccolto le riflessioni che ha portato Paolo Ricca le sue relazioni effettuate nelle settimane alfonsiane quindi è una platea che non è una platea evangelica è una platea allargata e quindi ecco dove le parole di Gesù uniscono quindi dell'amore si può parlare in tante accezioni nella Bibbia ma Paolo Ricca riporta l'amore di Dio nei confronti del prossimo come quell'amore più grande che c'è, la stessa cosa lo si può dire per il fuoco quindi fuoco dell'amore, quindi ci sono questi aspetti legati all'attualità ma soprattutto in chiave di accoglienza, in chiave di unione per i cristiani e non vedere le differenze, quindi laddove le religioni hanno messo dei confini la parola di Dio cerca di buttare giù i recinti e quindi in queste parole Paolo Ricca, in questa platea importante appunto delle settimane alfonsiane ha fatto questo però c'è di più, abbiamo raccolto oltre alle settimane alfonsiane l'intervento che è stato fatto nella Basilica di San Pietro invitato da Cardinal Ravasi e quindi trovate come ultima parte del libro l'intervento della lezione magistrale sul primato Pietrino dove Paolo Ricca porta la sua visione, o meglio la visione ovviamente biblica del primato Pietrino e lui dice una cosa bellissima ci vorrebbero tanti Pietro, tante famiglie, tante case in cui c'è il Pietro quindi è un qualche cosa che il sacerdozio universale fuoriesce anche in questa bellissima lezione ma anche la festa nostra della riforma Stavo giusto sfogliando il libro, era capitata proprio su questa pagina guarda Timoteo, la festa della riforma il 31 ottobre che ricorda il 1517 quando vennero affisse le 95 tesi lo stesso Martin Lutero appunto affisse le 95 tesi sulla porta della chiesa del castello di Wittenberg e viene citata la festa della riforma all'interno di questo volume di Paolo Ricca la festa della riforma riportata qui è la riflessione che Paolo Ricca ha portata appunto nell'ultima festa della riforma la domenica è stata il 30 ottobre anziché il 31 questa volta e quindi è stata capita intorno alla data quest'anno sì ovviamente il 31 è la festa della riforma però purtroppo nel 2022 è capitata ovviamente la predicazione il 30 nella chiesa culto riunito di tutte le chiese evangeliche a Firenze quindi è la riflessione, la meditazione di Paolo Ricca portata appunto agli evangelici di Firenze però c'era una comunità allargata perché come sapete l'ecumenismo va avanti e quindi sempre più l'attenzione dei cristiani rivolta verso quello che viene predicato nelle nostre chiese guarda sfogliando il libro prima mi sono caduta anche su un'altra pagina che mi è piaciuta molto in cui Paolo Ricca riflette sulla saggezza e follia di Gesù che sembrano due parole antitetiche in realtà invece sappiamo bene quanto Gesù fu una persona fuori dagli schemi e fuori diciamo da ogni tipo di stereotipo che poteva esserci in quel momento e quindi quando nel capitolo 3 di Marco qua viene citato il versetto 21 si dice è fuori di sé quante volte lo sentiamo adesso e quanto è attuale questa frase insomma che racconta la saggezza e la follia di Gesù sì qui sottolinea Paolo Ricca sottolinea una cosa straordinaria a cui non avevo mai riflettuto dice che questo è fuori di sé riferito a Gesù a con sé il demonio Belzebù era riferito era detto da un suo discepolo quindi Marco si vede fuori fuori quindi quando in effetti l'unicità la perfezione sulla terra è stata tenuta solo da Gesù sulla terra pertanto chiunque siamo tutti davvero pronti al giudizio e non abbiamo il metro del giudizio esatto quindi in effetti anche i suoi, i dodici hanno visto in Gesù delle situazioni che potevano sembrare ovviamente fuori dall'umanità che la grandezza è la perfezione unica ecco perché crediamo solo in Gesù Cristo e non in una perfezione terrena esatto e nello stesso tempo però è un esempio di come ce lo fa sentire molto vicino a noi nel senso è un aspetto talmente umano vedere questa follia che può emergere o che può sembrare insomma emergere però ce lo rende vicino e quindi ce lo rende davvero come una qualsiasi persona una qualsiasi emozione caratteristica comportamentale di ognuno di noi allora volevi aggiungere qualcosa? infatti nel testo ci sono riportate le riflessioni di Paolo Ricca dove sottolineano la vicinanza di Gesù con qualsiasi essere umano con quelli che poi erano ritenuti nel tempo delle persone dei minimi e sono sottolineati questi aspetti quindi la vicinanza, l'uguaglianza e Gesù fatto uomo è proprio questo quindi ha portato con sé la sofferenza come lo portiamo noi ma in lui siamo ovviamente una sofferenza che è gioia allora Paolo Ricca, amore, bacio, fuoco, le parole di Gesù edizioni Magister grazie a Timoteo Papa Pietro e grazie insomma per questa presentazione che abbiamo fatto insieme buona continuazione di Salone del Libro vi fermerete ancora immagino fino alla chiusura e poi tornerete nella vostra splendida Matera buona continuazione nelle vostre attività a presto grazie a Radio Betis Evangelica grazie a Daniela ma soprattutto grazie alla presenza del Salone a questo Piemonte che ci immerge sempre nella cultura bella grazie grazie a tutti grazie a tutti